Volete vedere come si fanno le coccole un cane? Guardate, Charlie, non sta mordendo, mi sta chiedendo di fargli le coccole. Giù a carezzo, dai, giù, giù, vieni giù, vieni giù. Dai, vieni, 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 guarda. Ma si struscia proprio. Mi piace proprio essere coccolato, questo è un coccolone. Coccolone Charlie, dai, stai giù, dai, mettiti giù. Dai, mettiti giù. Faccio le coccole a terra, dai, giù, 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 vieni, Charlie, qua, 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 vieni di qua. Guardate, ecco qua, ecco, adesso si sta proprio facendo coccolare, adesso si fa coccolare. Giù, metti giù, metti giù, metti la zampa, metto la zampa, mi coccola. Si mette giù, eh, ho capito, va bene. Andiamo così. Ecco, guardate come si sdraia bene, guarda. Ho una zampa, si mette proprio a suo agio. Guardate come si è messo. Incredibile, è incredibile. Guardate, mi si è coccolato. Ecco, mi sta beato, eh. Bello, beato, beato. Mi piace essere coccolato, eh. Ma come sta coccolato, eh. Mi lascia. Si è agganciato alle zampa. Ecco le zampe. Si è agganciato alle zampa. Ha detto qua, non ti muovi. Va bene, lo lascio, guarda. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Le coccole, le coccole, le coccole, le coccole. Le coccole, le coccole, le coccole, le coccole, le coccole. Dai, dai, dai. Dai qua, dai qua, dai qua, le coccole. Guardate. Come lo lascio? Subito si mette sull'attenti. E devo lasciarli. E come ti piace, guardate, guardate. E come ti piace, come ti piace, come ti piace. il coccolato Charlie il coccolone e che hai fatto? saluto ti fai proprio saluto guarda la zampa come sta